Un primo tavolo tecnico per le strategie da adottare per la distribuzione dei fondi GAC si è svolto al mercato ittico di San Benedetto del Tronto. Alla presenza del presidente del GAC Market, Arcisio Porto, e dell'assessore alle attività produttive del Comune Rivierasco, Laura Camaioni, i rappresentanti della marineria e delle varie attività che agiscono sul porto di San Benedetto del Tronto hanno avuto modo di interloquire per la prima volta tra loro. Oltre alle difficoltà che il settore sta vivendo, è stata anche l'occasione per gli operatori marittimi di presentare alcune proposte che sono state recepite da Arcisio Porto. È l'inizio della consultazione, anche se già il lavoro è partito dall'anno scorso, da agosto, con gli operatori della pesca, con i consorsi, con l'organizzazione di prodotto e con tutti gli attori che poi dovranno beneficiare del Fondo Europeo Ambiente Marino e Pesca e per la costruzione di una politica cosiddetta partecipativa. Questi sono termini che ci impone l'Unione e noi dobbiamo attenerci a tutta una serie di criteri che sono dentro le linee guida del programma FEAMPA, un altro acronimo impronunciabile, Cungue Fondo Europeo Ambiente Marino, Pesca e Acquacultura. È un modo per un programma che va avanti ormai da tre programmazioni, appunto quinquennale più l'N più 2, cioè alla scadenza del programma quinquennale, poi c'è l'Unione da una proroga quasi istituzionale. Perché? Perché di fatto poi l'allocazione delle risorse non è mai facile. In un settore che è in forte difficoltà da sempre, ma è talmente importante, è importante soprattutto per le Marche e per tutti i settori dove c'è turismo di mare, la presenza della piccola pesca, ma anche della pesca e del prodotto ittico è fondamentale anche per l'identità e i valori intrinseci che ha il pescato. Naturalmente anche per i fattori culturali e economici propri del settore della pesca. Pensate che Le Marche è la terza marineria per tonnellaggio di pesca in Italia, più della Sicilia, più della Puglia, più della Sardegna come produzione. Perché il mare Adriatico è un mare, seppur piccolissimo, c'è una superficie del 0,1% dei mari emersi a livello mondiale, c'è il 10% della biodiversità mondiale di pesce e è la nursery di tante specie ittiche importantissime come il tonno rosso. Questo non lo si sa, quindi per noi è importante comunicare i valori di un programma di questo tipo, ma anche allocare bene le risorse, cioè parlare con i pescatori, parlare con le amministrazioni, ci hanno tutta una serie di compiti, di supporto, vedi le mense pubbliche, la filiera del pescato dentro, gli acquisti della pubblica amministrazione, ma anche le competenze nella gestione delle aree portuali, alcune altre amministrazioni dello Stato hanno questa competenza e l'autorità portuale, ma qui l'amministrazione e la comunità locale è importantissima. Sono previsti investimenti importanti? Noi, essendo un programma di politiche partecipative, abbiamo 6 milioni di euro, poi il FEAMPA ha altre risorse, come GAL unico della pesca marchigiano, ci siamo dati l'obiettivo anche di accedere a risorse strutturali di altro tipo, di funzionare come agenzia di sviluppo a tutti gli effetti, senza scavalcare le competenze delle organizzazioni della pesca, di tutte le organizzazioni di categoria coinvolte, ma dando una capacità operativa e progettuale che abbiamo messo a punto da più di un decennio, sia sul FEAMPA che su altri fondi. Quindi l'affiancamento al settore della pesca e delle organizzazioni che ci lavorano è totale, ecco, questo mi viene da dire. Quindi obiettivi importanti che vi ponete con questi finanziamenti? Gli obiettivi sono importantissimi, adesso il problema è che i costi alla produzione, i costi e lo sforzo che fanno la piccola pesca, ma anche i pescherecci, i grossi pescherecci, è purtroppo contro un rialzo dei prezzi energetici in particolare, ma anche del lavoro, la sicurezza, la produzione è diventata una cosa veramente difficile da sostenere. Quindi noi vorremmo intervenire mirando degli interventi dove serve, dove l'impresa prevede di poter investire perché noi dobbiamo dimostrarlo, dove possiamo dargli una mano a aumentare il valore marginale di ricavo finale, quindi sulla filiera, sull'innovazione di prodotto, sul ricambio generazionale, collegando anche alcune filiere e non solo quello del pescato tal quale venduto, ma anche quello della trasformazione quinta e quarta, quinta gamma e poi anche la vendita diretta con filiera, diciamo così, sullo street food, tutta una serie di innovazioni di prodotto che possiamo testare, ma testarlo con chi poi produce. Sulla tempistica ci può dire qualcosa? Ma la tempistica, noi siamo agli sgoccioli, i prossimi 15 giorni verranno selezione delle strategie, la nostra unica marchigiana, ma è così in tutta Italia, il programma ha previsto una riduzione delle organizzazioni, i famosi flag, e quindi proprio per promuovere l'aggregazione su base regionale. I tempi sono strettissimi sulla chiusura della strategia e della convenzione, poi con la regione noi pensiamo di chiudere la convenzione appena dopo l'estate e essere operativi da settembre in poi, proprio con l'emissione dei bandi, perché noi non è che distribuiamo risorse così a caso, ma anche noi abbiamo dei criteri normali per i fondi europei, è quella di erogare il fondo, selezionare il progetto, fare la commissione di valutazione dei progetti, inviare tutto in regione e poi la regione liquida sostanzialmente al beneficiario selezionato dal Gal Marche. Noi come ex flag Marche Sud abbiamo iniziato a interloquire con il presidente del Gal Marche Nord per cercare di pensare a una strategia comune, quindi di unirsi come territorio, ma non solo come territorio da qui fino a Pedaso, ma a tutte le marche e cercare di fare una strategia come agenzia di sviluppo per poter prendere questi fondi, queste risorse e distribuirle su tutto il territorio in base alle esigenze di ogni zona del territorio, perché poi ogni città, ogni costa ha la sua specificità. Che cosa abbiamo pensato di fare quindi? Di unirci, perché l'unione fa sempre la forza e non distribuire soldi così a caso, ma creare questa agenzia di sviluppo proprio che vada a sentire le esigenze di ogni zona delle Marche e lavorare insieme con un unico territorio. Quello che abbiamo pensato di fare appunto nella strategia è quella di soprattutto dare delle opportunità, opportunità non solo a San Benedetto ovviamente, ma come dicevamo, ma lavorare con tutte le Marche, di diversificare, quindi pensare ad esempio a, per quanto riguarda sia la piccola pesca che la pesca a strascico, cercare di dare l'opportunità magari di fare pescaturismo, ititurismo, creare delle risorse di capacity building, quindi formazione proprio per dare una risorsa in più, un'opportunità in più ai pescatori che in questo momento sono in difficoltà, ma soprattutto anche per un discorso di ricambio generazionale, perché purtroppo la nostra marineria ha bisogno, in questo momento ha bisogno di questo, perché c'è poco ricambio generazionale. Tant'è che poi con l'Università Politecnica delle Marche il professor Gregori, ci ha già spoilerato, che partirà un corso di manager per il marketing turistico e ittico, quindi insomma siamo orgogliosi di ospitare questo corso di formazione, un corso triennale qui a San Benedetto. Un primo incontro per un GAC unico, come vedete questa operazione? Beh, la prima volta che succede, San Benedetto prima era capofila del flag Marchesug, GAC Marchesud, adesso abbiamo un unico GAL, vediamo di sviluppare progetti futuri per la comunità, è una finestra del FEAMP messa a disposizione anche alle persone non della pesca, quindi vediamo che progetti si possano tirare fuori con questi soldi a disposizione. Grazie a tutti!